A lei la parola, deputato Prisco. Da questo punto di vista comporta anche degli oneri aggiuntivi per le funzioni di staff, capo gabinetto, uffici legislativi, uffici stampa, segreterie tecniche, segreterie particolari, tant'è che prevede, ed arrivo al punto costituzionale, un aumento già nel 2020 di 3,4 milioni di euro che salgono nel 2021 a 5,3. Lo sconsiderato aumento degli oneri viola quel dovere che ha anche la pubblica amministrazione di concorrere all'equilibrio di bilancio, così come previsto nell'articolo 97 della Costituzione. E vale la pena anche sottolineare che questo provvedimento, che ha un carattere meramente ordinamentale, viene adottato con decreto legge, quindi con provvedimento di urgenza, quando un provvedimento di natura ordinamentale nulla ha di carattere, di necessità ed urgenza. E se andiamo al merito del provvedimento troviamo altre pregiudiziali di violazione costituzionale. Faccio riferimento alla legge di bilancio del 2008 che aveva razionalizzato il numero dei ministeri portandoli da 18 a 12. Oggi questo limite viene rimosso per garantire la possibilità di un equilibrio politico tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. Equilibrio politico che si paga anche in termini di funzionalità e di organizzazione dei due ministeri che da oggi iniziano a lavorare in modo distinto. In realtà di urgente e di necessario non vi era la necessità di creare due ministeri. Di necessità ed urgenza c'è nel mondo dell'istruzione, nel mondo dell'università, nel mondo della ricerca. C'è la stabilizzazione e l'assunzione di nuovi ricercatori ed io solo sa in questo momento storico quanto servirebbero. C'è la stabilizzazione degli insegnanti, c'è un investimento anche stipendiale nel pagamento degli insegnanti e dei ricercatori sulle quali scommette il futuro di innovazione e il futuro della nostra nazione in termini di sviluppo economico. Questi sì sarebbero stati i provvedimenti necessari e urgenti da adottare. Non la garanzia perché di necessità di fatto ce n'è una dietro questo provvedimento. Quella di tenere insieme i cocci di una maggioranza che non ha altri motivi di stare insieme se non quello di evitare di andare a votare per essere cancellati nelle urne se non quello di garantire la sopravvivenza delle proprie poltrone al governo così come in Parlamento. A fronte di questo si antepongono gli interessi dei partiti agli interessi dei cittadini e degli italiani. Non faccio che un riferimento alle indicazioni della sentenza della Corte Costituzionale 22 del 2012 che specifica quali siano le caratteristiche del decreto di urgenza. e cioè che vi deve essere una specificità, una oggettività, una omogenità e una corrispondenza al titolo del medesimo decreto. Oltre a non averla questo provvedimento come ho spiegato prima avendo carattere meramente ordinamentale negli emendamenti che sono stati introdotti in Senato che riguardano reclutamento, valorizzazione del personale, stabilizzazione del personale interno ovviamente alla struttura e non quello docente. Di fatto si fa un'interpretazione meramente arbitraria e discrezionale dell'articolo 77,2 della Costituzione. I motivi li abbiamo ricordati prima. Sono motivi di tipo politico per allungare l'agonia di una maggioranza e conservare le poltrone. Questo crea con un effetto devastante una scarsa efficienza nel funzionamento di questo settore dello Stato. Riporta l'Italia a 13 anni fa, prima di questa omogenizzazione tra il Ministero dell'Istruzione, il Ministero dell'Università e della Ricerca. Lo si fa calpestando, anteponendo gli interessi di partito e gli interessi degli italiani. Fratelli d'Italia sarà invece qui a difendere ancora una volta gli interessi degli italiani, prima di tutto, nonostante tutto e soprattutto nonostante voi. Grazie.